Tentato suicidio nel carcere di Chieti. Venerdì scorso un detenuto abruzzese di 40 anni ha tentato di togliersi la vita legandosi una corda rudimentale intorno al collo. L'estremo gesto è stato impedito dalla polizia penitenziaria e l'uomo è stato condotto in emergenza al pronto soccorso teatino. Il mattino seguente, mentre era ancora piantonato in una stanzetta dell'ospedale, il detenuto ha opposto resistenza ai secondini ed è stato poi sedato dal personale sanitario. La vicenda è stata resa nota dal sindacato della polizia penitenziaria che ha parlato di tentativo di evasione. I detenuti non sono sempre come li vorremmo, ha dichiarato Ruggero Di Giovanni, segretario regionale del sindacato, che ha annunciato anche che verrà chiesta una ricompensa per i poliziotti che sono intervenuti. Un'azione così disperata però, qual è un tentato suicidio, non può che scoperchiare il vaso di Pandora della drammatica situazione vissuta dai prigionieri privati della libertà in carceri sovraffollate. Nel 2019 sono stati 53 ai detenuti che hanno deciso di togliersi la vita. La piaga del sovraffollamento, dell'autolesionismo e dei suicidi, denuncia l'Associazione Antigone, non risparmia le carceri abruzzesi. Durante le feste di Natale alcune persone si sono radunate davanti il carcere pescarese di San Donato, dove sparando fuochi d'artificio, accendendo fumogeni e appendendo uno striscione, hanno voluto esprimere solidarietà ai detenuti.